Ciao a tutti, sono Anna Maria Lena, sono un'analogista del Lazio. Ho iniziato il mio percorso con Stefano Benemeglio nel 2012. Ho iniziato per caso, perché avevo bisogno di sciogliere dei nodi importanti della mia vita che nonostante tanti anni di analisi non riuscivo ancora a gestire. Per fortuna ho incontrato un'analogista molto capace, che poi è diventata una mia grandissima amica, e in poche sedute sono riuscita a venire a capo di una serie di problemi. Successivamente, grazie all'efficacia del metodo, ho deciso di impararlo. Mi sono messa a studiare, ho conseguito l'abilitazione professionale e ormai lavoro da diversi anni gestendo le più disparate casistiche. Dall'attore che magari sta vivendo un periodo di stasi e vuole ricominciare ad esprimersi al meglio, all'avvocato, professionisti, ma anche persone comunissime che si rivolgono a me per cercare di capire le proprie esigenze al meglio, attraverso l'ipnosi dinamica, attraverso il linguaggio non verbale dell'inconscio, e riuscire ad esprimere al massimo il loro potenziale nella vita quotidiana. Diciamo che per me è un'esperienza meravigliosa, perché queste discipline analogiche hanno aiutato anche me ad esprimere al massimo il mio potenziale come essere umano, come comunicatrice, come donna. Posso dire che è una scoperta continua, grazie a Stefano, grazie a tutta la squadra, a tutti i docenti che ci aiutano e ci indirizzano, ed è una scoperta continua non soltanto degli altri, della vita, delle potenzialità che noi possiamo acquisire, delle modalità di vita, di ricerca che noi non abbiamo nemmeno lontanamente considerato, ma è anche e soprattutto una scoperta all'interno di noi stessi, e quindi lo consiglio a tutti, consiglio a tutti di intraprendere questo percorso, di avvicinarsi a questo meraviglioso mondo delle discipline analogiche, grazie.